Crisi nera per la Turris che esce sconfitta anche dalla sfida sul neutro di Pagani contro la Gervison per 1-0. I corallini di Mister di Michele partono bene con una punizione al quarto d'ora di Leonetti che finisce alta sulla traversa. A metà del primo tempo sono i padroni di casa a rendersi pericolosi con Kira Mateng che però calcia alto da fuori aria. Poco dopo è Citarella ad andare vicino al gol con un colpo di testa che finisce a lato. A 41esmo la Turris a sfiorare il vantaggio con Ardizione che calcia il pallone nella buona posizione ma il tiro sfiora il palo. La ripresa si apre con De Sena che ci prova su punizione ma il portiere Corallino Perina accompagna il pallone fuori. Al decimo ancora una punizione di Fornito che viene respinta da Perina ma sulla ribattuta Loreto non trova la porta. Al quarto d'ora della ripresa a vantaggio rosso-blu Ulliano scende sulla sinistra e mette in mezzo per De Sena che calcia al volo superando il portiere per il gol dell'1-0 dei Cilentani. La Turris accusa il colpo e dopo solo un minuto Kira Mateng per poco non approfitta di un'ingenuità di Perina che quasi si fa soffiare il pallone a due passi dalla porta. Ci prova anche Gilly ma il tiro è parato agevolmente. La partita si chiude senza che i Corallini impensiriscano la difesa della Gerbison e tornano a casa con un'altra mala sconfitta. Prossimo impegno a Liguri sarà il posticipo di lunedì sera alle 20.30 con la complicata sfida dal lanciatissimo Pescara.